Momento di approfondimento di TRMH24, parliamo della zona a traffico limitato nella comune di Potenza. A partire da oggi, 8 aprile, entrerà in funzione una nuova disciplina della zona a traffico limitato nel centro storico di Potenza. Lo ha deciso la Giunta Comunale dopo un confronto con la cittadinanza e rispetto alle varie richieste di modifiche. Perché parliamo di nuova entrata in funzione di una nuova disciplina della ZTL? Perché ce n'era stata un'altra che vado a leggere per grandi linee per darvi un po' il quadro di quello che era appunto la disciplina prima e come andrà a cambiare proprio da oggi, 8 aprile, in pratica le fasce libere quali erano e in quali zone. La zona era l'intersezione via Carlo Bo, discesa San Gerardo, direzione discesa San Gerardo via Due Torri e intersezione via Vescovado via Scafarelli con orari liberi nelle seguenti fasce orarie, 6, 8 e 30, 13 e 30, 15 e 30, 18 e 30 all'uno dal lunedì al venerdì. Mentre il sabato la fascia oraria era dalle 13 e 30 all'una del giorno successivo. La domenica i giorni festivi da 6 all'una del giorno successivo. Questa era praticamente la disciplina della ZTL per quanto riguarda le fasce libere che adesso sono state modificate come dicevamo in premessa in seguito a un confronto con la cittadinanza rispetto a varie richieste di modifiche. In merito a questo, prima di iniziare a parlarne con il sindaco di Potenza Vito Santarsiero che ha gentilmente accettato il nostro invito negli studi di Potenza e che saluto e ringrazio proprio per questo motivo. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, grazie per l'invito e un saluto ai vostri teleascoltatori. Prima di iniziare sindaco facciamo un quadro della situazione di quelle che erano state le richieste di modifiche da parte appunto della cittadinanza, da alcuni consiglieri comunali d'opposizione e poi vediamo come cambia la ZTL da oggi 8 aprile. Prego la regia di mandare il servizio. A Potenza l'istituzione da circa un anno della zona traffico limitato e l'entrata in funzione da oltre due mesi del piano di esercizio pubblico continuano a suscitare perplessità nella comunità. In particolare, dice il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Molinari, i cittadini lamentano di essere stati penalizzati nella fruibilità degli spazi, sia nel tempo libero, sia per recarsi al lavoro, sia per accompagnare i loro figli a scuola. Alcuni genitori, evidenzia Molinari, lamentano il fatto che l'entrata e l'uscita dall'aula non coincidano con gli orari di alcuni autobus che prima garantivano il servizio. Ad esprimere il disagio rispetto a questa innovazione nella mobilità potentina sono gli assidi frequentatori di via Pretoria, ma anche gli anziani, i quali, sottolinea Molinari, temono che l'eventuale chiusura, per esempio, di Via del Popolo, collegata agli scomodi orari di apertura delle scale mobili di Santa Lucia, possa rappresentare un ostacolo ad una serata, per esempio, in centro, senza doversi spostare in macchina. Secondo Molinari, il piano di esercizio non è stato ancora attuato completamente, né è possibile sapere quando lo sarà. È da notare, infatti, come molte zone della città non siano collegate alle scale mobili. A ciò si aggiunge la sperimentazione a costo zero per l'utenza, che non paga i biglietti dell'autobus, non giovando così alle casse comunali. Tra i cittadini è cresciuto a confusione e rabbia, continua il consigliere, l'obiettivo finale che l'amministrazione vorrebbe raggiungere, cioè emissioni zero, sembra essere lontano, considerando che la reazione di molti nel caos più totale è stata quella di ritornare ad utilizzare l'automobile. È per questi motivi che il consigliere Molinari ha promosso la richiesta di un consiglio comunale aperto ai comitati di quartiere, associazioni di categoria e dirigenti scolastici. Questa era la situazione al 13 marzo 2013 con alcune opposizioni. Il discorso che si faceva nel servizio era anche un po' più ampio rispetto alla ZTL, a quelle che poi sono le modifiche che partono da oggi. Sindaco, andiamo quindi alle modifiche. Adesso non ci sono più queste fasce libere, ma non sono più spezzettate in questa maniera dalle 6 alle 8.30, 13.30, 15.30, 18.30 all'Una, ma ci sono delle fasce libere uniche. È così? Sì, è vero. Abbiamo semplificato gli orari di accesso e di chiusura del centro storico con delle fasce uniche. Il discorso ZTL è un discorso molto più ampio, per la verità. Nel servizio giustamente si è riportata la posizione di un consigliere di opposizione, inevitabilmente posizioni dettate un po' anche dalle strumentalizzazioni che spesso mette in campo la politica. Non vengono evidenziate alcune cose importanti. Il provvedimento prevedeva la pedonalizzazione di alcune zone che sono state acquisite dalla città come un fatto estremamente positivo. Piazza del Sedile, Piazza Pignataro, Piazza Duomo sono zone pedonalizzate di cui la città si è appropriata, migliorando notevolmente la qualità della vita, della frequentazione dell'utilizzo del nostro centro storico. A potenza, finalmente, dopo la riqualificazione di Piazza Prefettura, non abbiamo più auto, non soltanto in Piazza Prefettura, ma anche in Piazza del Sedile, Pignataro, Piazza Duomo. Inoltre, la fruizione del centro storico. Le nostre scale mobili ormai hanno raggiunto una media giornaliera di 16 mila passaggi. In un anno, da quando è entrato in vigore il provvedimento, abbiamo avuto un incremento di 1 milione e 200 mila passaggi. Siamo passati da una media di poco superiore ai 14 mila passaggi al giorno, ad un valore superiore del 30%. E' evidente, noi stiamo operando una modifica profonda del sistema del trasporto pubblico locale a potenza. Inevitabilmente ci sono dei disagi e degli assestamenti. E noi stiamo monitorando la situazione per cercare di arrivare al risultato finale in funzione dei riscontri sul campo, che in questi casi sono il riferimento essenziale. La modifica alla ZTL, per quanto riguarda l'area regolamentata, che è l'asse che va da via Vescovato, fino a via 4 novembre, avrà oggi una fascia unica di chiusura, dall'una di notte alle ore 13, 12 ore. E' una fascia unica di apertura dalle ore 13 alle ore, all'una di notte del giorno successivo. Il sabato l'apertura viene anticipata alle ore 11 e la domenica la chiusura è solo per la notte, dall'una alle 6. Bisogna dire che grazie alla ZTL anche l'aggressione del centro storico, gli atti vandalici si sono notevolmente ridotti. Non abbiamo più le lamentere e le denunce che avevamo in precedenza. Con questo provvedimento che viene dopo molti confronti con la cittadinanza, con la competente commissione consigliare del Comune di Potenza, con i commercianti, vari soggetti interessati, noi riteniamo che riusciamo a tutelare in un'area molto sensibile, che è quella del nostro centro storico, molto delicata, molto fragile, sia la funzione residenziale e istituzionale, che viene tutelata nella fascia di chiusura, dall'una di notte alle ore 13 del pomeriggio, e poi offriamo invece un maggiore spazio alle altre due funzioni, quella commerciale, quella un po' più ludico-creativa, ricreativa, culturale, nelle 12 ore che vanno dalle 13 all'una del giorno successivo. Le prime reazioni sono state decisamente positive, grande condivisione da parte di tutti i commercianti e devo dire condivisione anche da parte dei residenti, che comprendono bene che l'ipotesi H24 di chiusura è un'ipotesi non compatibile con l'utilizzo complessivo del centro storico, ma che in questa soluzione trovano la possibilità di poter avere delle ore a disposizione per le esigenze più specifiche dei residenti. Resta una ZTL H24 nell'area San Michele e nell'area di Porta Salsa del nostro centro storico, abbiamo abbassato anche il costo del parcheggio da 2 euro ad 1 euro. Sono convinto che in maniera progressiva stiamo raggiungendo quel punto di equilibrio che consentirà al nostro centro storico non soltanto di essere fruibile, di essere il luogo della storia della nostra città, il luogo d'eccellenza del commercio, ma di essere anche un luogo adeguatamente tutelato e raggiungibile dai nostri mezzi pubblici. Oltre alle scale mobili che ormai rappresentano un modello per l'intero paese, noi riporteremo nel centro storico anche una navetta dedicata che avrà la sosta probabilmente proprio nella centrale piazza prefettura. Novità, Sindaco, ci saranno anche per i residenti. I residenti nell'area di Via Addone, Vescovado, San Luca e Scafarelli avranno libero accesso e possibilità di sosta nell'area della ZTL, poi da Via Vescovado a Via 4 Novembre, dopo aver fatto domanda di permesso agli uffici ZTL, in questa zona Largo Isabelli, l'area antistante Largo Pignatari, sarà possibile accedere per la sosta. Sono tutti interventi tesi a migliorare complessivamente la situazione dei residenti nella fascia di chiusura. Nella fascia di chiusura consentiamo a questa parte del centro storico, esclusa dalla ZTL, di poter entrare nella parte dove non è consentito l'accesso al resto della città. Largo Isabelli, in tutto il provvedimento, rappresenta un piccolo dettaglio, per la verità, già lo scorso anno per... non voglio parlare di errore, ma insomma rientrò all'interno della fascia dove non era possibile entrarci, area pedonale, laddove invece era sostanzialmente naturale l'utilizzo a parcheggio di questo slargo, mantenendo intatta la pedonalizzazione di Largo Loffredo, Piazza Pignatari, Largo Duomo e Piazza Sedile. Insomma siamo riusciti a mettere a punto, intervenendo in maniera chirurgica in alcuni casi, in maniera più larga in altri, un provvedimento che ormai ha il carattere dell'essere un provvedimento definitivo ed in linea, in equilibrio con le varie esigenze che pone un intervento che riguarda la mobilità di un centro storico. Per quanto riguarda poi i cittadini che risiedono negli edifici che ricadono nella ZTL e si affacciano su Via del Popolo, potranno parcheggiare lungo tutta Via del Popolo. Sì, questa era un'esigenza che c'era stata prospettata da tutti i residenti che rientrano all'interno della ZTL ma i cui edifici affacciano su Via del Popolo dove spesso vi è anche l'accesso diretto ai loro condomini, per cui abbiamo ritenuto giusta la loro richiesta di poter parcheggiare lungo Via del Popolo. Lo consentiamo, di fatto Via del Popolo rappresenta una via di transito che per il resto della città è una via sostanzialmente di accesso al centro storico più che di parcheggio. Poi ci sono i residenti dell'area di Via Orazio Flacco e Via Portasalsa, Portasalsa tra l'altro lei poc'anzi ha identificato come area che rimane H24 pedonale, potranno parcheggiare oltre che su Via del Popolo anche in Via Gabet, Via Vigiani e Via della Pineta. Anche questa è un'altra novità. Sì, per la verità qui ci troviamo di fronte non propriamente ai cittadini di Portasalsa che rientrano all'interno della ZTL ma quelli immediatamente all'esterno che restavano penalizzati dal fatto di non poter fruire di parcheggi nelle zone limitre, fediamo la possibilità anche a loro. Insomma è un provvedimento che tiene dentro tutto il centro storico e tutta la esigenza dei residenti, della funzione residenzialità e a questa funzione abbiamo cercato di dare delle garanzie, delle opportunità nella fascia da luna di notte alle 13. Poi dalle 13 si apre una fascia dove è evidente le risposte vanno anche alle altre funzioni, quella commerciale, quella ludico-recreativa, mantenendo un filo conduttore. Il filo conduttore è quello di un centro storico che grazie al sistema delle scale mobili ha la possibilità di poter avere parcheggi e accesso con utilizzo gratuito che ribadisco oggi vede una media che è già intorno ai 16 mila passaggi giorno in costante aumento e che consente di fatto, come possiamo verificare tutte le sere, soprattutto i fine settimane, consente al nostro centro storico di essere un centro storico vivo, vivace, dinamico, ricco di iniziative, ma soprattutto ricco di una offerta commerciale che è un'offerta di altissimo livello. Certo, e poi da ultimo, lei lo aveva già menzionato, ma lo risottolineiamo, novità riguardante la tariffa oraria nelle aree di parcheggio a pagamento interne a margine della ZTL che viene portata da 2 a 1 euro, restano confermate, lo ribadiamo ancora, le aree pedonali di Piazza Matteotti, Largo Santa Lucia, Largo Duomo, Via Petruccelli e l'accesso libero in via del popolo. Insomma, questo è un po' il quadro della situazione sindaco Santarsiero e a quanto lei ha potuto constatare c'è già un incontro, c'è questa nuova disposizione, ha messo d'accordo tutto il palazzo di città, tutta la massima sise cittadina? Devo dire questo, ovunque in Italia si opera mettendo mano a provvedimenti di chiusura e razionalizzazione dell'utilizzo di pezzi di città, si aprono scontri, confronti anche molto duri e si aprono anche fasi di sperimentazione e gradualmente si arriva alla soluzione finale. Ritengo che dopo un anno abbiamo messo in campo un provvedimento giusto, equo, che tiene conto delle varie esigenze e degli obiettivi che l'amministrazione si era dati. Anche le reazioni, le prime reazioni tutte imbrondate ad un giudizio positivo venute dal mondo dei commercianti, devo dire dalla stessa opposizione che incredibilmente ha fatto un comunicato dove si dice che grazie a noi è stato fatto questo provvedimento, la verità è che il provvedimento è stato fatto in funzione di mille considerazioni, mantiene in piedi la gran parte di quello che era stato fatto già lo scorso anno, soprattutto con le aree pedonali e poi manteniamo la fascia unica di 12 ore, per la verità era stato chiesto dalle opposizioni, anzi c'è una raccolta di firme per annullare la ZTL, stranamente oggi con una chiusura di 12 ore si esprime un giudizio sostanzialmente positivo, questo a riprova del fatto che si è operato ascoltando tutti, l'ultimo passaggio il sindaco l'ha fatto proprio nella commissione consigliare dove abbiamo raccolto le ultime indicazioni, le ultime valutazioni, ritengo che si è operato in un contesto difficilissimo dove non è facile sviluppare provvedimenti amministrativi con il giusto equilibrio per arrivare ad una soluzione che finalmente garantisce il nostro centro storico e lo rafforza, lo rafforza in tutte le sue funzioni, noi le semplifichiamo in quattro, funzione residenziale, funzione istituzionale, funzione commerciale, funzione storico-culturale. Ecco sindaco siamo davvero in chiusura, mi faccia un brevissimo passaggio di 10 secondi sui commercianti, i commercianti che cosa hanno detto? I commercianti che ho ascoltato più volte in più occasioni hanno accolto con estremo favore questo provvedimento, inevitabilmente ci sarà il singolo commerciante che probabilmente non è d'accordo ma posso garantire che tanto le associazioni di categoria, quando i commercianti riuniti in più occasioni, in valutazione ed altro hanno raccolto molto positivamente questo provvedimento, ritengono che sia un provvedimento che va nella direzione di sostegno della loro attività, di tutela del centro storico, un centro storico ben tutelato che sviluppa al meglio la propria funzione storico-culturale-istituzionale e un centro storico che si congili al meglio con una funzione commerciale di alta offerta come quella che è nella zona del nostro centro storico via Pretoria ed aree limitrofe. Questo è un segnale positivo come positivamente ho accolto molti giudizi di residenti che hanno ben compreso di dover conciliare le loro esigenze con le altre funzioni e hanno valutato positivamente la possibilità di poter avere 12 ore a disposizione per poter sviluppare le azioni necessarie per le loro attività residenziali, per la loro vita ordinaria e quotidiana. E poi resta la tutela notturna, il centro storico non più aggredito, più tutelato, meno atti vandalici, meno azioni. Certo, avremo ancora bisogno di aspettare per la verifica finale, però il tempo che abbiamo voluto dedicare all'ascolto, subendo anche molte critiche, perché è evidente posticipando il momento della scelta definitiva ci siamo esposti a valutazioni, strumentalizzazioni ed altro, credo che quel tempo sia stato positivamente utilizzato per arrivare a mettere a punto un provvedimento finale che sono certo il tempo dirà che è un provvedimento equo e a tutela degli interessi del centro storico e della intera città. Grazie ancora al sindaco di Potenza Vito Santarsiero, grazie davvero per le sue parole. Grazie a voi. Adesso la linea può andare alla regia. Grazie. Grazie.